Vede! E' un ottimo gruppo e questo ci aiuta anche tanto e si è visto dall'abbraccio come l'ho fatto dopo un gol. Cosa si prova da attaccante a dover giocare una decina di minuti e cercare di convincere il mister? Io cercherò di metterlo sempre in difficoltà perché siamo in tanti e siamo uno più forte dell'altro di entrare e fare come oggi. Oggi la partita era anche un po' bloccata, il Taranto si difendeva soltanto quindi era difficile trovare spazi. Eh sì, le squadre che affrontiamo soprattutto queste qua più di basso livello diciamo però, no tanto basso, però sono squadre che vengono qui e si vengono sempre a chiudere, fanno più la fase difensiva che quella offensiva perché sappiamo quando giocano contro il Foggia o Lecce oppure Matera cercano sempre di portarsi anche un po' vicino poi fuori casa, per loro è un ottimo risultato. Hai citato il Matera, si va a Matera domenica, una ex per te? Eh sì, come ex vado lì, spero di fare bene e poi se Dio vuole entrare di nuovo oppure giocare tolare non lo so, segnare ma non esulterò perché poi il rispetto c'è sempre.